Musica Zapponeta abbassa l'Atari, 5 punti all'ordine del giorno per il primo consiglio comunale a Zapponeta dopo l'insediamento della nuova amministrazione guidata da Vincenzo D'Aloisio. L'esito è stato positivo, come dichiara il primo cittadino. La notizia importante è che l'attuale amministrazione con il consiglio comunale ha diminuito la tassa sui rifiuti a Zapponeta, l'unico comune in provincia di Foggia da aver ribassato l'Atari. Infatti D'Aloisio dice che il giorno dopo le elezioni si è subito impegnati a dare indirizzo della società che si occupa del servizio di igiene urbana di procedere alla rimodulazione del piano industriale, piano che oggi è inferiore di circa 100.000 euro rispetto a quello originario predisposto durante la vecchia amministrazione, è inferiore di 52.000 euro rispetto alla passata gestione commissariale. Con questo atto quindi fa sapere il sindaco D'Aloisio, si rimette in circolo tra i cittadini di Zapponeta circa 52.000 euro. Manfredonia Vetro, interessamento dei greci, oggi tavolo al mese. L'imprenditore greco Nicolas Presas è sempre più interessato all'acquisto della Manfredonia Vetro, la fabbrica ormai fallida del gruppo Sangalli. La notizia è stata ufficializzata anche dal parlamentare Bordo che ha contattato la vice ministra Teresa Bellanova per comunicare che per oggi è stato convocato il tavolo al mese di confronto sulla questione Sangalli. Al centro dell'incontro la manifestazione di interessi dell'acquisto dello stabilimento di Manfredonia avanzata dall'imprenditore greco Presas. Bordo aveva chiesto alla vice ministra Bellanova di convocare quanto prima una riunione con tutti i soggetti interessati all'avvertenza al fine di verificare la concretezza della proposta di acquisto degli impianti di macchia e la possibilità di prorogare la cassa integrazione per i lavoratori ormai scaduta. Lo stesso Bordo ringrazia la vice ministra per la tempestività e la sensibilità che ancora una volta ha manifestato verso i lavoratori del territorio di Manfredonia. Cronaca da Manfredonia chiede passaggio ad un amico di famiglia e subisce abusi. Gli agenti della polizia di Manfredonia hanno notificato un provvedimento di misura cautelare che dispone il divieto di avvicinamento ad un 54enne del centro Sipontino con l'accusa di aver compiuto atti sessuali su una minore. Nei primi giorni di giugno una minorenne aveva denunciato di essere stato oggetto di attenzioni sessuali contro la sua volontà ad opera di una persona da lei conosciuta. La ragazza aveva riferito di un episodio avvenuto alla fine di maggio quando ad un uomo amico di famiglia aveva chiesto il passaggio per recarsi ad una festa con altri coetanei. L'uomo però anziché fermarsi il mezzo dinanzi al locale dove si svolgeva la festa e far scendere la ragazza aveva proseguito la sua marcia verso un parcheggio distante qualche centinaio di metri approfittando della scarsa illuminazione e del fatto che il parcheggio a quell'ora era poco frequentato l'uomo aveva fermato il mezzo abusando di lei. La vittima avrebbe cercato in tutti i modi di scappare dal suo aggressore che aveva desistito dall'intento solo dopo alcuni minuti non riuscendo a vincere completamente l'esistenza della ragazza che sconvolta da quanto era accaduto aveva raccontato tutto ad una coetanea e il giorno successivo ai suoi genitori. Un racconto accertato anche da alcune immagini registrate dalle telecamere che si trovavano nei pressi del luogo dove l'uomo aveva fermato il mezzo per abusare della ragazza. Estate 2016, gioco di squadra per la tutela delle spiagge della Puglia e anche del litorale da Manfredoni a Mattinata. Sabato 30 luglio prende il via su 34 spiagge della Puglia l'ottava edizione dell'iniziativa nazionale promossa da Marevivo in collaborazione con la JITI, con il patrocino del Ministero dell'Ambiente e con il supporto del sindacato italiano Balneari contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta in spiaggia e in mare. Sono due i momenti principali, l'installazione di posa cenere dall'esterno presso gli stabilimenti barneali dell'operazione di pulitura delle spiagge libere ad opera dei volontari esclusivamente maggiorenni. I volontari del Centro Cultura del Mare, in collaborazione con le associazioni Lega Navale, l'isola che non c'è, Fidas, saranno impegnati nella raccolta di mozziconi, di sigarette, plastica, lattine ed altro a partire dalla scoliera antistante l'ex pretura fino alla spiaggia libera. Un posto a cenere da esterno per raccogliere le cicche verranno posizionati lungo i lidi di Viale Miramare e nei centri turistici anche di mattinata e mattinatella. Poi sabato 30 luglio alle 9 ritrovo per delle associazioni partecipanti presso il piazzale antistante dell'ex pretura di Manfredonia che parteciperanno a questa campagna di sensibilizzazione. Tappa tutta garganica per il veliero d'epoca, Dolphin, l'imbarcazione di proprietà di asso nautica italiana. Dolphin, una barca del 1963, è un bialbero a vela salpato dal porto di Brindisi con a bordo un equipaggio composto di esperti marinai e affiancato da un blogger professionista che partendo dal porto pugliese e passando per Molise, Abruzzo ed Emilia Romagna giungerà a Venezia ripercorrendo e rievocando l'antica via mercantile nota come Rotta del Sale. Da ieri ormeggiato nel porto turistico di Manfredonia dove asso nautica e camera di commercio hanno organizzato un incontro per fare il punto della situazione sulla nautica pugliese. Il livello generale della qualità dei servizi in accoglienza nautica è sicuramente migliorato. Questo investimento è uno degli investimenti sulle coste pugliesi che hanno fatto migliorare, hanno fatto sicuramente fare un salto di qualità a tutto il livello generale di accoglienza del turismo nautico. Tutte le imprese nautiche, il distretto della nautica, in generale in questo momento riesce a resistere bene al fronte della crisi. L'iniziativa si chiama ADRION, l'ultimo progetto nato in casa asso nautica italiana, la struttura di servizio di Union Camere per la promozione e lo sviluppo della nautica da riporto, il turismo nautico e l'economia del mare. Lo scopo è assolutamente promozionale e credo che sia il primo esperimento innovativo di promozione a 360 gradi di un territorio. Effettivamente il progetto si chiama ADRION perché ADRION è un acronimo fra Adriatico e Ionio. Tant'è vero che la Puglia è fatta anche un po' di Ionio, quindi abbiamo Taranto e Lecce. Quindi abbiamo raccolto sulla barca tutte le eccellenze del settore enogroalimentare della Puglia, quindi Taranto, Lecce, Brindisi, Bari e Foggia. Le abbiamo caricate su questa imbarcazione che partirà porto per porto lungo l'Adriatico fino a Venezia. Abbiamo inteso farlo con Venezia perché Venezia l'anno scorso era praticamente la base. Consiglio provinciale, ennesimo rinvio sul caso Moldaunia, un tema che evidentemente non sta a cuore a molti, soprattutto a qualcuno come il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, che definisce costoso il referendum. Meglio sistemare le strade, ha detto ai nostri microfoni. Io non vado a spendere 700-800 mila euro da sottrarre la manutenzione delle strade e la manutenzione delle scuole che non riusciamo a fare in alcun modo per fare il referendum che probabilmente non serve a nulla perché la prefettura e quindi il ministero dicono che non è di competenza della provincia. Cioè veramente è un modo di disperperare danaro pubblico. Allora, se ci deve essere una decisione a livello provinciale, prima bisogna chiarire questo aspetto qua e quindi se c'è questa decisione io vorrei che la prendessero l'Assemblea dei sindaci. Dico ad esempio, in questo Consiglio provinciale il Comune di Foggia non è rappresentato, il Comune di Manfredon non è rappresentato, il Comune di Cerignolo non è rappresentato. Cioè chi sono io per decidere anche in nome e per conto di questi qua? Il Consiglio provinciale ha invece approvato all'unanimità l'affidamento dei servizi a Promodaunia in house e l'adesione del progetto Rete-Siti Unesco. Sull'accapo relativo al referendum sul passaggio della Capitanata dalla Puglia al Molise, la discussione è stata rinviata la prossima settimana in un consiglio monotematico. È sbucato dalla testa del Gargano subito dopo la baia di San Felice col suo famoso architiello, puntando dritto la prua verso il faraglioni di Pizzomunno. Così quasi all'improvviso è apparso nella baia della spiaggia del Pizzomunno a Vieste, il super yacht Silver Chalice, 53 metri di lunghezza e 10 di larghezza, battente bandiera della Marshall Islands, un vero e proprio paradiso fiscale di proprietà dell'ultra miliardario statunitense Larry Silverstein, il miliardario americano locatario del miliardario americano locatario. del miliardario americano locatario del miliardario americano locatario.